La riduzione del rischio infortunistico con sostituzione di macchine e trattori, questo credo sia una delle tipologie di intervento più interessanti, perché in questo caso andiamo ad affrontare una riduzione del rischio generico, nel senso che occorrerà evidentemente identificarlo, però non è già prestabilito dall'INE, mediante la sostituzione di macchine che non rispettino sostanzialmente la direttiva macchine. La sostituzione che ricordo ancora una volta è distinta tra macchine e trattori, quindi le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria, quindi la direttiva macchina. I trattori agricoli e forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati messi per la prima volta sul mercato prima del 1 gennaio 1998. Le macchine, i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienate dall'impresa esclusivamente tramite rottamazione, quindi non è possibile fare una permuta, ma occorre che ci sia la definitiva rottamazione, o direttamente tramite chi segue poi la vendita del mercato. Grazie! 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 Grazie!